A qualcuno di voi o a qualcuno di noi hanno mai chiesto un parere sul ministro tedesco, o sul ministro francese, o sul commissario europeo, o sul ministro lussemburghese? No, io pensavo e penso che per l'Italia debbano decidere gli italiani. Attenzione, se pensano di impaurirmi hanno sbagliato a capire. Sicuramente sono arrabbiato come una bestia. E già nei giorni scorsi avevo intuito, ricordate che c'era qualcosa che non funzionava, ma mai mi sarei sognato che oggi pomeriggio, consegnando la lista dei 18 ministri che da domani avrebbero cominciato il loro lavoro, ci saremmo sentiti dire no, non si può, non potete, qualcuno non vuole, qualcuno non si fida. Qualcuno che con un click decide chi vince, chi perde, chi muore e chi vive e ha deciso che questo governo non sapeva da fare. Attenzione, non condivido, capisco la rabbia che sto leggendo sui social in queste ore, non condivido assolutamente coloro che dicono e allora non vado più a votare. No, l'esatto contrario. Le prossime elezioni saranno un plebiscito, un referendum fra il vecchio e il nuovo, fra il popolo con i suoi diritti e i poteri forti, e i signori dello spread, i signori delle banche, i signori della finanza, e quelli che l'Europa non si tocca, e l'euro non si tocca, e i trattati non si toccano, e le regole non si toccano, e i vincoli non si toccano. E uno gli dice, scusa, però queste regole stanno portando povertà nel mio paese. La gente non ha più i soldi per farsi curare. I ragazzi scappano, i negozi chiudono. C'è un esercito di partite IVA finte, che devono fare le partite IVA, ma in realtà sono lavoratori subordinati senza i diritti dei lavoratori dipendenti, perché le regole europee hanno tolto qualsiasi tipo di vincolo, di concorrenza, e quindi ci sono italiani che lavorano in nero a 2 euro all'ora, perché tanto fuori c'è la fila di immigrati disposti a prendere 1 euro e mezzo all'ora. E io non posso intervenire, non posso dare dei soldi a questi italiani, perché le regole europee me lo impediscono. Eh no, eh no, ci hanno fermato adesso, ci hanno fregato adesso, stravinceremo la prossima volta. Tu va a destra, sparpagliatevi. Non sparate! Vi prego, non sparate! Non sparate!